Ciao amici, ciao a tutti quelli che sono iscritti al mio canale! Ciao a tutti quelli che ancora non sono iscritti, ma la vedo dura che possano farlo dopo aver visto questo video. Sì, perché oggi parlo di Gameplay. Sigla! Ecco, io non ne capisco assolutamente niente. Io sono nato nel 79, i primi videogiochi a cui ho giocato erano sul Commodore 64, quelli con la cassettina che tu la mettevi, stavi lì ore e ore, poi quando il gioco era carico tu avevi anche dimenticato di aver messo la cassettina tanto che avevi aspettato. Insomma, posso ricordarmi qualche titolo tipo Robocop? Braccio di ferro, braccio di ferro l'uomo ragno, ma erano tutti uguali, c'era questo supereroe che da sinistra andava a destra, saltava e mi annoiava tantissimo. Adesso devo dire che i giochi sono veramente avvincenti. Io ho un figlio di 10 anni a cui ho comprato la Nintendo Switch e oggi, che non c'è perché è tornato a scuola, fortunatamente, voglio cimentarmi in un gioco e ho preso un titolo che va forte. Mi sento di un vecchio oggi. Un titolo veramente update. Perché lo devo dire in inglese? Minecraft. Boh, Minecraft, voglio giocare a Minecraft. E devo dire che è un gioco che mi ha veramente incuriosito perché ha una grafica molto spartana. È molto a cubi, cioè pixelato, sembra un porno giapponese. Ecco, questa è la prima impressione che ho avuto da questo gioco, ma adesso mi metto per la prima volta insieme a voi con il joystick, come si chiama? Il Joypad. Vabbè, comunque, sono vecchio, non ce l'ho mai giocare. Voglio provare a giocare, per cui eccoci qua. Minecraft gioca. Quindi clicco la A. Crea nuovo il mio mondo. Creo il mio mondo. Beh, io ne ho creati di mondi. No, non vedi i tuoi mondi. Vabbè, io mi faccio i mondi miei, tu facci i mondi tuoi. Io... Crea nuovo, va bene. Creo nuovo. Crea nuovo, crea nuovo. Voglio cominciare dalla tazera. Perfetto. Ecco, adesso... La cosa bella è che io ho messo un tempo massimo per mio figlio ed è scaduto. E in questo momento devo abilitare il tempo per giocare io, cioè... Stai ribaltando la situazione! Ecco qua, mi sono abilitato il tempo e quindi è il momento di giocare. Ecco, quando vi parlavo dei porno giapponesi, è questa la sensazione che... Cosa... Cosa devo fare? Cosa... Scava! Scavo 2R... Sca... No, ZR. Scava. Io che ero abituato a scova, adesso invece scavo. Che scopo io perché questo lavoro lo faccio più per scovare... Sì, la chiamo capiva. Scavo, prendo ammazzate dei pixel. E... Vabbè. E' molto avvincente, no? No, ma è bello, è bello. Poso. Come si posa? Con la... Il cuore? No, io... Io veramente sono in imbarazzo perché... Prima di criticare, insomma, una cosa, voglio poterla capire. C'è una morte che mi salva in questo momento? Perché prima si moriva, almeno tu morivi, ricominciavi da capo e qui niente. Ah, ecco, sto morendo, sto morendo, sto morendo, faccio morire. Ah... Rinasco, rinasco. Sì, se rinasco questa cazzata non la faccio più, giuro. Eeeh, Ypsilon. Inventario. Scavo, 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 scavo. C'è una mucca. La mucca è già qualcosa, insomma. Con la mucca si fa il latte. Nel mio mondo... Voglio cominciare proprio dal latte, no? Per la colazione, dico. Ecco, con la si salta. Ah, e mo lo dici, mo lo dici. Nel mio mondo c'è già una casa. Abusiva, non lo so. Io busso, che devo fare? Eeeh, ah, vedi, c'è un orto. Sembrano gli orti quelli lì che danno agli anziani nei comuni. Cosa devo fare? Devo cogliere il papavero? Scavo? Salta, salta. Ah, vedi, c'è gente, c'è gente. Andiamo a chiedere a loro. Scusate, ma... Un benzinaio, qualcosa? Non lo so. Cosa... Mi sfugge il motivo per cui si giochi. Senta lei, buon uomo? Scusi, posso... Ma è fastidio se scavo? Eh? Bello, eh? Io, ma lo capisco il motivo del successo di questo gioco. Adesso non sembra, ma l'ho capito. Perché è veramente avvincente vedere gente quadrata che non ti rivolge la parola. Poi quando mio figlio è a casa e non parla, inizio a capire quali sono i modelli di riferimento. E io salto. E io salto! Adesso mi sono perso nelle frasche. Non vorrei sorprendere qualcuno adesso. Ma sai che preferivo Robocop? Ecco, io immagino che adesso mi insulterete per questo. Però io veramente da profano mi sto approcciando a Minecraft su Nintendo Switch. Non mi hanno assolutamente pagato. Perché mi sa che mi fanno causa e li devo pagare io a loro. Però... Buon uomo? Senta, come si gioca a Minecraft? Lei lo sa che... Niente, non... È antipatica la gente su Minecraft, eh? Scusi! Scusi, le sto calpestando i pomodori quadrati! Ho dato da un'altra parte. C'erano le mucche? Magari con la X le mungo? Non lo so. Ecco qua. E c'è una bella mucca che mi dà... Le terga? Ecco qua. Vediamo se succede qualcosa. No. Signora mucca? Niente, niente. Vabbè. Facciamo così. Il video, il video finisce qui. Io adesso aspetto il mio figlio. Me lo faccio spiegare. Ci vediamo alla prossima puntata di Gameplay Male. Ma male, male. Ma che è? Non potevano pagare 15 euro un grafico buono per questo gioco. No, mio cugino è bravo. E poi vedi che c'è c'è c***o. Il colbano, giusto si è notato. Mi chiamano Padre Bio. E soprattutto Puber Eno. Salgo, quel rum, grazie. Vuoi aggiungere qualcosa, Vincenzo? Che cos'è il tutorial? Ma che mi metta conoscere il tuo cognato. Mamma, 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 non è come se... Sì! Rimaniamo cova amici! Sì!